Una proposta di legge per onorare la memoria di Leonardo, il giovane di Senigallia vittima di bullismo, ad annunciarlo i genitori del 15enne e l'avvocato Pia Perricci, presto ne parleranno con il ministro Valditara. Incidente tra due auto questa mattina lungo la strada provinciale 45, coinvolto un fanese di 65 anni trasportato in codice rosso all'ospedale. L'amministrazione fanese mette a disposizione 400 mila euro per sistemare le strade bianche diventate impraticabili a causa del forte maltempo, compresi fossi e canali di scolo. Addio per sempre ai 20 milioni di euro destinati all'interquartieri di Gimara, i fondi non possono essere dirottati per la realizzazione della Federiciana, dove è stato aperto dal comune un bando di interesse per cercare finanziamenti per realizzare l'opera. Emergenza maltempo a Pesaro, il comune mette in campo 230 mila euro dal fondo di riserva per ripristinare il centro Benelli e la statale 16. Il comitato contro l'installazione delle antenne 5G al campo sportivo Don Bosco ha consegnato al sindaco di Fano la raccolta di 500 firme di cittadini preoccupati per la salute pubblica. Nelle marche il Partito Democratico è unito, a dirlo la segretaria provinciale Rosetta Fulvi nella conferenza stampa di oggi organizzata per fare il punto della situazione sulla politica locale. Tanti interrogativi sul futuro dell'unione dei comuni Pian del Bruscolo, secondo CGL, Will e Cisle manca un progetto vero. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. A pochi giorni dalla morte di Leonardo, il quindicenne vittima di bullismo a Senigaglia, i genitori e l'avvocato Perrici ricostruiscono gli episodi che hanno portato il giovane a togliersi la vita. Inoltre annunciano una proposta di legge sul bullismo e ne parleranno con il ministro all'istruzione Valditara. Iniziamo da qui con il servizio di Carlo Leone. Soprattutto vi ringrazio per l'opera di sensibilizzazione che state facendo verso questo problema, che è un problema non soltanto di bullismo, ma di violenza in generale. Sarebbe bello che con tutto ciò si riuscisse a eliminare il tragico evento, quindi prevenirlo. La forza di queste due splendide persone che ho qui al mio fianco è quella che ci fa andare avanti in questa battaglia, non soltanto per dare rispetto alla morte di Leo e per onorare la morte di Leo, ma per fare in modo che non ci siano più altri Leo, non soltanto a Senigaglia, ma in tutto il mondo e in tutta l'Italia. Una proposta di legge per onorare la memoria di Leonardo, il giovane di Senigaglia che si è tolto la vita in un casolare di campagna, probabilmente perché vittima di bullismo. L'iniziativa è stata annunciata oggi dall'avvocata della famiglia Pia Perricci e dai genitori del ragazzo morto il 13 ottobre scorso a Montignano di Senigaglia. Lo scopo è quello di evitare che ci siano in futuro episodi simili che hanno portato alla prematura scomparsa di un quindicenne, istituendo il reato di bullismo con relative sanzioni e un obbligo di insegnamento a scuola di una materia che parli di emozioni e relazioni, distogliendo i loro sguardi dai dispositivi tecnologici che spesso alterano la realtà. Quindi una proposta di legge perché la scuola inizia ad occuparsi realmente di questi ragazzi sin da piccoli dove devono imparare non soltanto la materia ma soprattutto a diventare gli uomini e le donne del nostro futuro. Durante una conferenza stampa, legale e familiari hanno ripercorso gli ultimi tragici giorni di vita del giovane puntando il dito contro alcuni compagni di classe, due ragazzi e una ragazza, che l'avrebbero pesantemente offeso, deriso e umiliato anche fisicamente a partire già dai primi giorni di scuola di questo anno scolastico, iniziato da poco più di un mese. Atti violenti ribadiscono i familiari ma che solo una parte di quanto subito da Leonardo ne è convinta la madre Vittoria, così come il padre Francesco, che chiedono tramite la loro legale di esaminare sia il cellulare del figlio, che al momento non sarebbe ancora stato possibile visionare, sia i telefonini dei tre minorenni su cui si stanno concentrando le indagini. Ci fa pensare che quello che è successo c'è dentro all'interno del cellulare di Leonardo, sono sicura che usciranno fuori altre cose perché Leo era troppo buono. Per il momento è stato aperto un fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio, ma secondo la legale Pieperricci ci sarebbero abbastanza elementi anche per parlare di stalking, minacce e molestie che si sarebbero ripetute per vari giorni fin dall'inizio delle lezioni a settembre, in quella nuova scuola che Leonardo aveva scelto perché più vicina al suo orientamento professionale. Ma in quella scuola un istituto superiore di Senigallia non avrebbe trovato il supporto per affrontare episodi così gravi di cui si vergognava parlare persino coi genitori. La legale ha parlato di un colloquio con un docente di sostegno a cui Leonardo avrebbe riferito della volontà di lasciare la scuola appena iniziata, ma da quell'incontro non sarebbe scaturita alcuna segnalazione interna all'istituto né alcun avviso alla famiglia. Di qui l'accusa di mancata vigilanza all'istituto. Nella lente di ingrandimento anche un post sui social sulla piattaforma TikTok. Il fatto che un ragazzo di quelli che noi abbiamo identificato il giorno dopo abbia fatto a botte con un altro ragazzo e che ieri e ieri, avanti ieri, ha postato un video sprezzante dove rassicura ai suoi genitori che al massimo in caso di rissa lo vanno a prendere costura, significa che questo ragazzo ha capito il disvalore di quello che ha fatto, non ha compreso assolutamente nulla di ciò che ha fatto, significa che potenzialmente potrebbe essere un pericolo per qualcun altro. Di tutti questi elementi e della proposta di legge i genitori di Leonardo parleranno al ministro all'istruzione Valditara durante un incontro previsto per il prossimo 6 novembre con la speranza che dalle indagini possa intanto essere fatta chiarezza sulle cause che hanno portato un giovane a togliersi la vita. La cronaca attimi di paura questa mattina a lungo strada provinciale 45 all'altezza dell'intersezione con via Falcigara. Una ragazza di 24 anni di Pesaro alla guida di una Fiat Panda per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo, invaso la corsia opposta. E' optato un Audi A3 condotta da un fanese di 65 anni, quest'ultimo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pesaro mentre la ragazza in codice giallo a Fano. Sul posto due ambulanze, i vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia locale. Nessuno dei due coinvolti nel sinistro è in pericolo di vita. Il comune di Fano stanzierà dei fondi per la sistemazione delle cosiddette strade bianche, quelle di campagna, che a causa delle forti piogge sono diventate impraticabili. Inoltre sarà data importanza la messa in sicurezza dei fossi e la pulizia delle banchine. Le interviste sono state curate da Filippo Pucci. Un importante finanziamento è stato messo a disposizione dal comune di Fano per le strade bianche. Assessore Ilari, di che cosa si tratta? Gli eventi atmosferici di questi giorni hanno messo l'amministrazione nelle condizioni di prendere una decisione importante. Stanzieremo 400 mila euro con la caratteristica di estrema urgenza per fare in modo che possiamo mettere a terra queste risorse nel più breve tempo possibile perché abbiamo verificato che ci sono una decina di chilometri di strade bianche che oggi sono totalmente impercorribili, con buche anche profonde più di mezzo metro. Quindi abbiamo deciso di intervenire in modo immediato. La fortuna è stata aver predisposto precedentemente dei fondi a bilancio per le strade che utilizzeremo con la caratteristica di urgenza in modo che tutto ciò non diventi un debito fuori bilancio. Quindi interverremo in queste prime dieci strade per poi passare alla progettazione, come dicevamo i giorni scorsi, per utilizzare gli 8 milioni di figliuolo che sono arrivati ad inizio del mese di ottobre e che la prossima settimana capiremo come mettere a terra grazie a una riunione tecnica operativa che ho chiesto fortemente agli uffici e che saremo già in grado di mettere a terra durante la prossima settimana. Assessore Curzi, in queste settimane alcuni fossi sono stati ripuliti proprio per evitare un secondo straripamento. Ma questo lavoro verrà fatto anche in altri punti di Fano. Esattamente quali sono gli interventi e dove? Con questi soldi il primo lavoro è mettere in sicurezza queste strade. Poi partiremo con la messa in sicurezza di tutti i fossi dove ci sono state delle frane, pulendo delle banchine dove sono state occluse e riaprendo le bocche di lupo per far defluire meglio l'acqua nei nostri campi perché l'obiettivo dell'amministrazione oggi è far defluire l'acqua nei campi e non creare delle strade dei fiumi d'acqua. Le strade bianche saranno a cominciare da nord la comunale Martinozze, la comunale Villafontana, la comunale Butrigo. Poi ci spostiamo al centro verso Fenile e Caregnano che saranno la comunale Beltrame e la Madonna del Cantoniere chiamata anche nuova comunale Sant'Elia. Spostandoci più verso sud, quindi verso Camminate, c'è la strada comunale che collega Monteschiantello con Camminate, la strada comunale della Rinolfa che diciamo che va dal cimitero di Camminate verso Valle e la strada vicinale della Fonte. Queste sono le prime dieci vie interessate ai primi interventi con i fondi stanziati e a seguito di queste vie verranno risagomati i fossi e verranno pulite le banchine stradali. Poi, oltre a questi interventi, cominceremo ad attenzionare tutti i fossi veramente occlusi della nostra città e delle nostre periferie, anche perché le periferie oggi vanno veramente manutentate per non avere dei rischi in futuro. Persi definitivamente i 20 milioni di euro che la città di Fano doveva aver speso per la variante di Gimarra, nonostante l'impegno dell'attuale amministrazione di dirottare quei fondi per la biblioteca federiciana. Nel frattempo è stato aperto un bando per trovare economie da terze parti per la sua realizzazione. Purtroppo Fano ha ufficialmente perso i 20 milioni di euro che dovevano essere spesi per la variante Gimarra. Abbiamo tentato in tutti i modi di recuperare queste risorse per investirli sulla federiciana, che è un progetto visionario redato da Cucinella anche con il supporto del Cavalere Montanari. Però è chiaro che l'investimento che abbiamo proposto, gli altri 10 milioni erano per la rigolificazione del Ministero, non sono stati accettati dal MIT e quindi fanno, oltre ad aver perso i 20 milioni di euro, dovrà restituire i 2 milioni di euro che la precedente amministrazione aveva preso per lo studio di fattibilità e quindi la progettazione della famosa variante Gimarra. Un progetto scellerato, che l'abbiamo sempre purtroppo definito così, per la quale ci sono dei protagonisti, degli attori, che sono l'ex vice sindaco Fanesi e anche l'ex consigliere regionale, e oggi consigliere regionale Renato Claudio Minardi, che aveva candidato proprio Cristian Fanesi sindaco, e alla quale rivolgo, visto che oggi ci sentiamo sentire la predica su tanti investimenti che la Regione sta mettendo in atto, come l'ospis pediatrico, piuttosto che il nuovo ospedale, la nuova palazzina Emergenze Urgenze, che cosa ne pensa dell'ex vice sindaco che ha perso il più grande finanziamento che la città di Fano aveva ottenuto. Quindi oggi diamo questa brutta notizia, noi non vogliamo perdere l'investimento sulla biblioteca federiciana, quindi oggi abbiamo pubblicato l'avviso per trevoare sponsor importanti, milionari, per realizzare quest'opera. Lo scopo di reperire finanziamenti utili per la realizzazione dell'intervento di restauro e ricostruzione anche di parte della biblioteca federiciana è stato pubblicato ieri un bando che si trova pubblicato all'albo del comune di Fano e questo bando contiene tutte le indicazioni per poter partecipare a questo finanziamento. Rimarrà pubblico per 30 giorni, quindi le domande di partecipazione devono intervenire entro il trentesimo giorno, da ieri, e in questo bando sono contenuti criteri, quindi vengono anche classificati su categorie diverse. Si chiedono appunto partecipazioni che siano superiori alla quota dei 2 milioni e che a seconda delle categorie vedranno corrisposto un periodo diverso di contratto di sponsorizzazione perché lo scopo è proprio questo, di riuscire a realizzare la raccolta di finanziamenti pubblici in cambio della possibilità di utilizzare l'intera opera come sponsorizzazione eventualmente utilizzando anche la possibilità di realizzare il diritto di denominazione, la possibilità di utilizzare la comunicazione, la promozione e il ritorno d'immagine è anche associato al nome, al logo, al marchio dello sponsor. È previsto anche che sia possibile unire più soggetti o pubblici o privati per raggiungere la cifra minima di sponsorizzazione. Il Comitato contro l'installazione delle antenne 5G al campo sportivo Don Bosco ha consegnato questa mattina al sindaco di Fano, Sir Filippi e all'assessore Manocchi le oltre 500 firme raccolte da parte dei residenti della zona interessata insieme a quelle di numerosi cittadini fanesi, contrari appunto alla messa in posa dell'impianto. La raccolta ha visto un'ampia partecipazione spinta dalla crescente preoccupazione per gli impianti per gli impatti della colonizzazione dei territori da parte degli operatori telefonici e i conseguenti rischi per la salute pubblica. Sir Filippi e Manocchi hanno preso in carico il problema comunicando in breve tempo ulteriori sviluppi. Il Comitato, si legge nella nota, è preoccupato per l'assoluto silenzio proveniente da vari fronti, comune e proprietà che ha concesso l'utilizzo dell'aria e intende continuare la propria battaglia in difesa della salute pubblica. richiede inoltre una presa di posizione chiara e tempestiva da parte dell'amministrazione locale. Emergenza maltempo a Pesaro. Il Comune mette in campo 230 mila euro dal fondo di riserva per ripristinare il centro Benelli e la statale 16. Sentiamo di più nel prossimo servizio. 230 mila euro dal fondo di riserva per il centro Benelli e la statale 16. È il risultato dell'operazione approvata ieri in giunta che permetterà al Comune di Pesaro di mettere a terra in tempi stretti le risorse necessarie per risolvere due criticità contingenti dovute al maltempo. In particolare, 130 mila euro sono destinati per il centro direzionale Benelli, 100 invece per la statale 16. Da aggiungere poi 20 mila euro per il ripristino di strada dell'Angelo Custode, dove la careggiata ha ceduto durante la bomba d'acqua di agosto. Per il centro Benelli sarà necessario realizzare un ponteggio di sicurezza per consentire un appoggio sicuro della trave lesionata dalla pioggia. Dove tutti hanno visto quello che succede, soprattutto sui social, dove quando piove praticamente c'è una cascata. Ma quello non è quello il problema. Il problema è che invece queste infiltrazioni di acqua hanno rovinato quelle che sono le travi che in qualche modo tengono sulla copertura e quindi bisognerà fare un intervento di consolidamento importante. Importante è l'intervento previsto nel tratto di statale 16 interessato da una frana caduta dal Monte Ardizio. I fondi messi in campo serviranno per la rimozione dei detriti e il rifacimento delle reti di protezione. L'obiettivo è terminare i lavori entro l'anno per un tratto importante nel collegamento pesa-rofano. Anche questo è un intervento che occorre fare quanto prima perché non possiamo permettersi di lasciare la strada statale a senso unico alternato, anche se proprio ieri abbiamo avviato, abbiamo inserito il semaforo per garantire almeno il senso unico alternato. Dall'altra parte abbiamo messo risorse per avviare il progetto per la sistemazione della frana, anche questa molto importante perché ci richiederanno 250 mila euro anche per la sistemazione della frana in via dell'Angelo Custode. Vi ricordiamo che nell'ambito dell'Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, questa sera alle ore 21 al centro civico di Villanova si svolgerà un incontro patrocinato dal comune di Coglia al Metauro nel quale interverranno la dottoressa Carolina Berluti, ostetrica libera professionista, e la dottoressa Margherita Iaccucci, psicologa e psicoterapeuta. Il futuro dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, le prospettive occupazionali e le criticità, i sono i temi trattati oggi durante una conferenza stampa convocata dalle segreterie territoriali di CGL Funzione Pubblica, CISL Funzione Pubblica e UIL Federazione Poteri Locali. Sentiamo l'intervista. La serie è importante, nel tempo abbiamo dovuto riprendere... Questa discussione nasce in primis dalla visione che si deve avere per questa Unione. L'Unione di fatto è stata creata per fornire servizi alla cittadinanza, per riunire la forza di alcuni comuni che magari all'epoca, era lontano 2003, non avevano la forza per gestire di fatto tutti i servizi. A questo punto si chiede all'amministrazione di capire quale sarà la visione per il futuro. E in tutto questo non dobbiamo scordarci quello che è il ruolo dei dipendenti che restano in capo all'Unione Pian del Bruscolo. Quindi ecco, la domanda che si rivolge in questo momento è quello di dare una prospettiva sia all'Unione in quanto tale che a quello che sono tutti i dipendenti che restano in capo all'Unione Pian del Bruscolo. Doveva diventare e poteva essere la più grande e importante unione delle marche nel tempo è diventata una roba un po' diversa perché ci sono stati fuggi e rifuggi da tutte le parti e sono rimasti senza personale, senza servizi, senza un'idea di progetto. Quindi non so cosa possono rispondere alle esigenze della gente. Io quello che non posso accettare rispetto a una legittima decisione del Comune di Pesaro di riprendersi i servizi che ci sta non me la vendete però che sia come un rilancio dell'Unione Pian del Bruscolo perché così non è. Per rilanciare un'azienda o un'ente si rafforzano i servizi, si mette il personale e si risponde alle esigenze veramente dei cittadini. Ci aspettiamo delle risposte. La politica è chiaro dovrebbe prendere delle decisioni perché tenere una cattedrale come l'abbiamo chiamata così non serve a nessuno. Poteva e doveva diventare un'altra cosa oggi la politica deve rispondere anche alla gente soprattutto alla gente su cosa vuole fare. Questo è importante perché poi il resto passa in secondo piano perché se tu mi devi costruire un'Unione che funziona siamo tutti d'accordo lo eravamo anche a suo tempo. Adesso è un'altra roba. La problematica che sorge sono le incertezze che si sono create a seguito appunto di scelte o non scelte da parte della parte politica relativamente all'Unione Pian del Bruscolo e quindi questo ha generato nei lavoratori tra il rientro delle funzioni di Polizia Locale dei sistemi informativi dall'Unione al Comune di Pesaro tra le mancate assunzioni che sono state fatte all'Unione Pian del Bruscolo e le mobilità che il personale ha fatto dall'Unione quindi lo svuotamento delle funzioni principalmente amministrative del personale e questo ha creato le incertezze nella Polizia Locale e anche nel poco personale che è rimasto ad oggi un unico dipendente a tempo indeterminato e pieno tra gli amministrativi. Si terrà sabato dalle 10 alle 17 all'Hotel Palace del Conero il primo congresso del Movimento Civici Marche la compagine civica nata tre anni fa è rappresentata in regione dal consigliere Giacomo Rossi e si colloca in un'area politica territoriale e regional popolare tanto da definirsi il Movimento dei Marchigiani le fasi congressuali prenderanno il via alle ore 10 con i saluti istituzionali interverranno il governatore Francesco Acquaroli e diversi rappresentanti delle forze politiche regionali e comunali i lavori pomeridiani seguiranno con il dibattito interno e con le votazioni per eleggere le varie cariche del Movimento il congresso è aperto anche ai non iscritti a Pesaro questa mattina si è svolta una conferenza stampa organizzata dal Partito Democratico un'occasione per fare il punto della situazione politica locale in vista delle elezioni regionali sentiamo l'intervista alla segretaria provinciale Rosetta Fulvi una aglessione unanime e una fiducia la situazione del nostro territorio per il Partito Democratico e per il centro-sinistra è una situazione positiva già prima della tornata delle europee e delle provinciali avevamo la chiara sensazione di una regione contendibile dopo i risultati delle due tornate elettorali con la marea di voti che ha avuto Matteo Ricci il Partito Democratico che è il primo partito nella provincia di Pesaro Rubino per il dato europeo e le elezioni provinciali dove la destra pensava di scippare il Consiglio provinciale e quindi la guida della provincia e questo non è stato assolutamente possibile ecco la situazione è veramente positiva e noi siamo consapevoli che ci avviamo a elezioni regionali con la quinta marcia diciamo il Partito Democratico è unito a tutti i livelli quindi mi riferisco al partito locale al partito provinciale che ora presento e a quello regionale unito e coeso sui risultati da raggiungere sulle prossime scadenze e anche sulla questione che abbiamo discusso ieri negli organismi non solo delle elezioni provinciali ma anche della situazione che si sta verificando a Pesaro a Fidopoli non esiste c'è un'indagine che riguarda il signor Santini i nostri amministratori sono persone oneste sono persone che hanno fatto il bene della città di Pesaro e del territorio quindi massima fiducia e massimo sostegno come massima fiducia abbiamo espresso nei confronti della magistratura che deve fare il suo percorso e che speriamo lo faccia nel più breve tempo possibile l'unica cosa che non permettiamo è la macelleria politica della destra che dovrebbe invece interessarsi dei danni che sta facendo in regione e di tutto quello che ha distrutto nel nostro territorio non potranno vincere facile ma saranno giudicati dai cittadini e il Partito Democratico, il centro-sinistra si avvia alle elezioni regionali a testa alta, con la schiena dritta con orgoglio e anche con molta forza e durante la conferenza stampa di oggi il Partito Democratico ha chiesto chiarezza in merito alla gestione di Atim l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche a sollevare la questione la consigliera regionale da allora in poi come ha lavorato Atim il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche con una serie di affidi diretti ha fatto solo affidi diretti poteva farlo? non poteva farlo? noi crediamo di no molti avvocati ci dicono di no ma a prescindere da questo l'abbiamo sempre definito un carrozzone politico in queste ultime settimane però ci siamo accorti che forse c'è anche qualcosa di più e ad accendere il campanello d'allarme è stata la Corte dei Conti perché i giudici nella loro relazione della parifica qualche settimana fa scrivono esattamente che la condotta di Atim è elusiva dei principi di veridicità trasparenza, correttezza e quindi siamo andati a verificare questi affidi diretti e ancora una volta come ha detto Atim c'è un coacervo di indirizzi, atti inestricabile che passa dall'assessorato al turismo della regione Marche ad Atim e viceversa tanto da non capire nemmeno chi chiede, chi paga, chi fa cosa e in effetti ci siamo resi conto che in questi anni ad Atim non ha quasi lavorato nessuno per questo siamo andati nei loro uffici a vedere diverse volte e non c'era mai nessuno le scrivani erano sempre vuote eppure lì, secondo Aquaroli, dovevano lavorarci 12 persone alla Corte dei Conti hanno risposto che 4 stavano negli uffici che sono al quarto piano della Camera di Commercio ad Ancona dove pagano 170.000 euro d'affitto e invece nessuno cos'è quindi Atim? una scatola vuota per fare affidi diretti probabilmente e questi affidi diretti sono quasi tutti, parecchi sopra soglia, sopra i 140.000 euro ce ne sono alcuni uno degli ultimi, 366.000 euro per una mostra a Roma cosa porta alle Marche? non lo sappiamo i volontari dell'associazione I Randaggi del Cuore hanno organizzato un nuovo ciclo di incontri dedicato al rapporto tra umani e animali d'affezione l'ingresso sarà gratuito ma sentiamo i dettagli nell'intervista realizzata da Stefania Schiaroli oggi abbiamo in studio con noi Marina Marchetti dell'associazione I Randaggi del Cuore che ci racconterà i prossimi incontri animalisti che hanno organizzato dedicati alla relazione tra umani e animali Marina ben arrivata iniziamo col dire le date di questi incontri dove si svolgeranno e che saranno completamente gratuiti esatto questi tre incontri saranno completamente gratuiti si terranno a Mondolfo al Salone Aurora che si trova in Via Cavour e sono tre giornate in cui si tratterà il tema umani e animali la prima di queste giornate sarà domenica 27 ottobre il mattino dalle 10 alle 12 e 30 la seconda sarà sabato 9 novembre durante il pomeriggio avremo l'incontro soprattutto la proiezione di un documentario dalle 18 alle 20 e 30 e il terzo di questi incontri sarà domenica 1 dicembre sempre il mattino dalle 10 alle 12 e 30 partiamo con l'incontro del 27 ottobre di che cosa tratta? allora l'incontro del 27 ottobre è un incontro che ci permetterà di avere un relatore decisamente importante perché è una persona che a tutto tondo ha a che fare non soltanto con il mondo animalista ma anche con tantissimi tipi di culture lui è uno psicosociologo un insegnante, un docente di scienze umane di filosofia e ha tante conoscenze da un punto di vista antropologico sto parlando proprio del professor Gianluca Chiocci che relazionerà su quelle che sono le nuove sensibilità e le nuove coscienze che la gente sembra dimostrare nei confronti degli animali lui ci farà esempi di culture a livello mondiale dove gli animali hanno un certo tipo di trattamento vengono trattati bene naturalmente e si farà la domanda perché noi nel nostro mondo, nel vecchio continente dobbiamo appropriarci degli animali come se fossero una merce e quindi cercherà di darci una risposta abbiamo il diritto di fare una cosa del genere agli animali fortunatamente metterà in luce anche quelle che sono le nuove sensibilità e forse qualcosa sta cambiando da questo punto di vista Il 9 novembre dalle 18.30 alle 20.30 ci sarà la proiezione del film Food No Profit di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosio ci spieghi In questo documentario, durato 5 anni come preparazione Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosio vogliono mettere in luce le dinamiche che si trovano dietro l'industria della carne ci sono le lobby, ci sono i politici e ci sono tanti soldi ci sono tanti miliardi che vengono investiti proprio per gli allevamenti intensivi con tutte le conseguenze che gli allevamenti intensivi comportano quindi scopriremo che cosa succede agli animali all'interno degli allevamenti ma anche qual è la ricaduta sulla cittadinanza sulla popolazione e sull'ambiente perché sappiamo benissimo che gli allevamenti intensivi sono fonte di grandissimo inquinamento da tanti punti di vista quindi non solo sofferenza animale ma anche tante problematiche ambientali e tanto sfruttamento per quanto riguarda la manodopera e problemi anche per quanto riguarda la cittadinanza il primo dicembre dalle 10 alle 12.30 ci sarà invece un altro incontro, quale? andiamo con un crescendo di emozioni perché l'argomento sarà sempre allevamenti intensivi soltanto che questa volta li vedremo proprio dall'interno perché Simone Palagiano che è un attivista ma soprattutto è un investigatore dei diritti animali ha avuto la possibilità, quotidianamente quasi la possibilità di entrare in questi allevamenti e di documentare quello che succede quindi mette in luce le tante criticità le tante sofferenze che questi animali sono costretti a sopportare ha dichiarato che porterà qualche filmato dove alcune scene sono state censurate perché non è naturalmente facile vedere per tutti quello che lui è riuscito a registrare però saranno sicuramente esplicative di quello che succede all'interno degli allevamenti Bisogna prenotare per poter partecipare a questi appuntamenti? Non è necessario prenotare, il posto c'è per tutti vi aspettiamo numerosi naturalmente aspettiamo tutti coloro che vogliono conoscere perché è giusto conoscere quelle che sono le realtà che fino adesso magari sono state ignorate e si può comunque, per avere maggiori informazioni si può telefonare all'associazione I Randaggi nel Cuore oppure scrivere alla mail Come diceva Gandhi, la civiltà di un popolo si vede dal modo in cui tratta gli animali Grande successo di pubblico per il musical del Piccolo Principe il celebre racconto riadattato dal fanese Damiano Fabri che ha curato anche le musiche è andato in scena mercoledì e giovedì sera al Cinema Politeama di Fano realizzato esclusivamente da giovani artisti e talenti del territorio locale lo spettacolo è stato realizzato con musiche originali eseguite al pianoforte da Riccardo Maria Ricci con la collaborazione del coro di Voci Bianche in Canto e del coro giovanile Malatestiano oltre alla collaborazione di tanti realtà fanesi dirette dai registi Tommaso Rusciti e Tommaso Rizzitelli la serata si è conclusa con un grande applauso a tutti i protagonisti che con la loro bravura hanno coinvolto ed emozionato il pubblico in sala lunedì alle ore 19 torna in diretta Primo Cittadino l'ospite della terza puntata sarà il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci potrete intervenire telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250 e vi ricordo che nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 in Italia si tornerà all'ora solare come ogni anno il cambio dell'ora il cambio dell'ora autunnale prevede uno spostamento delle lancette degli orologi un'ora indietro alle 3 del mattino dunque puntarle alle 2 quella notte dormiremo quindi un'ora in più subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi a seguire uno speciale dedicato all'artista Gilberto Grilli che ha trasformato la sua casa in un vero e proprio museo termina qui il telegiornale grazie per averci seguito e buona serata grazie per aver guardato il video